Live Social Amici di Radio News 24, ben ritrovati su Live Social, amici di Youtube, ben ritrovati anche a voi. Come va? Io sono Francesco e oggi ho il piacere di presentarvi Pasquale Alfieri. Ben trovato al Pasquale. Grazie Francesco. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Grazie per avermi invitato. È un piacere, è un piacere. Oggi parleremo un po' della tua attività, di un settore tra l'altro che io non conosco molto bene. Non mi è mai capitato di affittare o, come si dice, noleggiare un'auto. Infatti tu sei uno dei cofondatori, insomma, tu hai avuto un'idea per quella che è un'attività, quello che adesso è diventato un autonoleggio vero e proprio, il Kronos Luxury Rent. Assolutamente sì. Allora, quando è nato? Questa idea è nata con mio papà all'incirca cinque anni fa e noi abbiamo sempre noleggiato macchine in famiglia, quindi poi ci siamo chiesti perché non intraprendere questo percorso e iniziare a soddisfare la clientela conoscendo i vari punti del noleggio molto, molto, molto importanti. Ecco, ad esempio, prima di entrare subito nel merito, io l'ho già detto, non ho mai noleggiato un'auto. Quali sono i vantaggi di noleggiare un'auto? Allora, i vantaggi sono molto, molto semplici. Cioè, in un'unica rata noi abbiamo a disposizione l'assicurazione, tutta la manutenzione, quindi sia ordinaria che straordinaria, le tasse, quindi tutta una rata unica, le gomme e appunto abbiamo la possibilità solo di fare carburante, guidare la macchina dei nostri sogni senza avere poi degli imprevisti, ecco. Perfetto, quindi c'è una bella differenza con il leasing? Assolutamente sì, perché il leasing appunto si paga una rata, ma poi bisogna aggiungere la manutenzione, l'assicurazione, i vari imprevisti che possono essere tantissimi, non stare neanche qui a delincarli. Figuriamoci, insomma, tutti sappiamo come sono le strade, tutti sappiamo un po' cosa può succedere, ovviamente. Esattamente. Quindi prudenza ci sta, però a volte non dipende solo da noi, quindi questo è sicuramente un punto molto interessante. Quindi siete partiti solo qualche anno fa e come sta andando? Allora, siamo partiti, come ti dicevo, circa cinque anni fa, pian piano stiamo allargando le nostre vedute perché non offriamo solo servizio di noleggio, ma abbiamo la possibilità tramite il nostro sito, quindi www.chronosluxuryrent.com, di andare sia a noleggiare vetture, ma anche a prenotare viaggi, quindi creare un pacchetto unico, vettura più viaggio, concerti e tutti i nostri servizi extra che potete andare a vedere appunto sul nostro sito. Quindi ad esempio, sicuramente, un must probabilmente per visitare la Sardegna, avere l'auto lì di noleggio. Certo, non solo auto ma anche moto e scooter, qualsiasi mezzo noleggiabile è possibile tramite il nostro portale, quindi anche monopattini elettrici, qualsiasi mezzo. Ah, wow, quindi super all'avanguardia. Assolutamente. Ovviamente avete una vasta gamma di auto, immagino. Abbiamo una vasta gamma di auto che va appunto dall'utilitaria più piccola all'auto più lussuosa in commercio attualmente. Ecco, questo mi incuriosisce e mi ingolosisce anche un pochino. Tra l'altro c'è nel nome Luxury Rent, Cronos Luxury Rent. Volevo chiederti, puoi anticiparci qualcosine? Magro sul sito ovviamente ci sarà tutto il catalogo. Assolutamente. Però volevo chiederti qualche anticipo. Allora, nel reparto lusso abbiamo a disposizione marchi come Porsche, Lamborghini e Ferrari, quindi diciamo le tre punte più importanti delle case automobilistiche, sia italiane che tedesche. Niente male, niente male, però appunto mi colpisce anche che arrivate fino a Lamborghini e poi con il monopattino elettrico. È una soluzione comunque. Assolutamente, cerchiamo di offrire un servizio a 360 gradi, quindi dal cliente meno esigente e a quello più esigente. Ok, senti. Adesso, come si dice, ho un'accezione forse un po' vecchia dell'autonoleggio, che è appunto quello legato semplicemente a un viaggio, a un periodo un po' stretto, limitato. Invece so che esistono persone, cioè nel senso tante persone, utilizzano questo servizio a un lungo termine anche. Assolutamente sì. Con il passare degli anni si vedono le immatricolazioni degli autonoleggi, sono cresciute di parecchio, quindi molta gente si è convertita dal comprare l'auto al noleggiarla. Noi offriamo anche questo servizio che si chiama noleggio a lungo termine e praticamente insieme a noi decideremo poi il veicolo, quindi qualsiasi modello di qualsiasi casa costruttrice, il periodo che varia da 12 a 60 mesi, il chilometraggio per avere l'auto dei vostri sogni e non avere altri imprevisti. Questo è mica da poco. Sì, tra l'altro, Francesco, volevo solo aggiungere che appunto sempre dal nostro sito si possono prenotare delle video call, quindi per chi non volesse o non potesse muoversi per varie ragioni, tramite il nostro sito si prenota la video call e i nostri consulenti sono a disposizione per ascoltare tutte le vostre esigenze e creare un'offerta ad hoc per voi. Ecco, infatti ci stavo giusto dicendo, insomma, adesso siamo in un momento un po' particolare, quindi anche per voi immagino ci siano state delle ripercussioni, ovviamente la gente si è esposta di meno, quindi il video call in cosa consistono? Un'assistenza a 360 gradi? Assolutamente sì, i nostri consulenti ascolteranno poi i bisogni del cliente in base a quello che sta cercando. Principalmente i clienti che ci contattano hanno già avuto un approccio con il noleggio, quindi sono già abbastanza navigati, però accogliamo anche i nuovi arrivati spiegando in tutto e per tutto tutto quello che c'è da sapere. Certo, perché insomma si è per le mani una bella responsabilità, comunque parliamo di beni importanti come le auto e le vetture, quindi per quanto possa essere un servizio vantaggioso è giusto dare tutti i punti di riferimento per delle persone che si avvicinano. Invece tornando sempre sul discorso dell'organizzazione, hai parlato di concerti, quindi nel senso sperando che ricomincino prestissimo perché io ho una lista che è veramente molto interessante. Come si dice, si prenota un'auto in questo modo? Come fate, come organizzate? Allora praticamente lì è in base al cliente, nel senso se ha piacere di prenotare anche il concerto lo fa sempre tramite il nostro sito, nei servizi extra mettiamo a disposizione tanti servizi extra, che possono essere biglietti bus, biglietti aerei, biglietti dei treni, biglietti dei concerti, tutto quello che concerne poi sia la mobilità che il divertimento. Quindi non solo, come si dice, il noleggio auto in sé, è proprio un servizio che va a coprire la mobilità, è fantastico. È fantastico. Assolutamente sì, a 360 gradi, quindi anche con crociere e booking, siamo partner anche di booking e tramite il nostro portale si può avere il 10% di sconto rispetto al listino normale. E cosa aspettavi a dirlo, scusami? Sono tantissime le informazioni Francesco, non basterebbero 10 minuti. Ma infatti non ti preoccupare perché 10 minuti sono solo la base, perché poi ci rivedremo prestissimo anche su YouTube, ovviamente. Assolutamente sì. Quindi amici che siete all'ascolto adesso di Radio News 24, vi invitiamo già da adesso ad andare a cercare la nostra intervista su YouTube, ricordo appunto Live Social, oppure i social di Pasquale e della sua agenzia, perdona mi sono chiamata agenzia, forse un po' impreciso, però insomma fate così tante cose che ci può anche rientrare. Quindi Kronos Luxury Rent col trattino su Facebook, su Instagram Kronos underscore Luxury underscore Rent e quindi mi raccomando andate lì, Live Social, trovate tutte le informazioni. Senti Pasquale, hai qualcosa da aggiungere prima di salutarci? Nulla, andate a vedere tutta la nostra realtà tramite i link che appena hai detto tu, e qualsiasi domanda e qualsiasi dubbio saremo noi pronti a rispondervi. Perfetto, quindi vi ricordo ancora una volta il sito web, che sicuramente è la pagina dove più potete trovare informazioni in maniera più completa, dove potete navigare tranquillamente e fare dei viaggi anche lì, quindi www.kronosluxuryrent.com, l'indirizzo email è kronosluxuryrent.com e vi ricordo ancora una volta Facebook Kronos trattino Luxury Rent, Kronos underscore Luxury underscore Rent, su Instagram invece, immagino che ci siano delle belle foto interessanti anche su Instagram. Assolutamente. Perfetto, quindi non avete scuse, fate una corsa sui social, l'indirizzo è in via Mario Nebbia 41 a Valenza, in provincia di Alessandria, però come dicevo sono anche raggiungibili tranquillamente dai social, e poi fate un servizio anche tra virgolette da remoto. Assolutamente, serviamo anche a domicilio le vetture, qualora fosse necessario, soprattutto per le supercar. Eh beh, nice, molto molto interessante, quindi li trovate ovviamente a Valenza ma un po' ovunque, contattateli perciò sul sito web www.kronosluxuryrent.com, c'è anche un numero a cui potete telefonare, il 324 90 14 057. Allora Pasquale, grazie per questa bella chiacchierata. Grazie a te Pasquale. Noi ci rivediamo ovviamente su YouTube, quindi ci vediamo lì amici che siete all'ascolto di Radio News 24, live social si prende un momentino, ma sul web rimane sempre online, quindi rimanete con noi, rimanete su queste frequenze, perché torniamo prestissimo. Buon proseguimento e grazie ancora a te Pasquale. Grazie. Live Social